Ritroviamo gli azzurri di Londra, Lorenzi tra Puccinelli e sentimenti quarto, Giovannini, Fattori e Amadei che oggi segnerà un gol magistrale. Come a Londra chi vince la scelta del campo perderà la partita. L'Inter comanda il gioco nel primo tempo, nella ripresa subirà la pressione della Lazio. Lorenzi fa l'anguilla ma Antonazzi lo aspetta al barco. Non si fa restare invece Amadei. Pallo ha deviato Mazzani, sfiorato l'autogol. Puccinelli è accorto nei lanci ma Effling non è pronto a sfrutarli. Giovannini spazza la palla, quanto a sentimenti terzo spazza via anche Amadei. Attenzione, Remondini si arrangia con un braccio, inevitabile il rigore. Miers è uno specialista che non perdona. Nella ripresa prima che Miers secondo suo fratello segni per la Lazio, Amadei realizza il secondo gol. Attenzione.